I carabinieri di Montella, al termine di un'articolata attività investigativa, hanno denunciato un trentenne di Napoli ritenuto responsabile del reato di truffa. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando il giovane con modi distinti si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri ed è riuscito a truffare un'anziana di Caposele, ottenendo la consegna di 1.500 euro in contanti. La tecnica utilizzata, quasi sempre la stessa, il finto maresciallo dei carabinieri, ha telefonato alla vittima, facendole credere che i soldi richiesti servivano quale cauzione per scarcerare il figlio, ristretto in camera di sicurezza perché responsabile di un incidente stradale con feriti. Poco dopo la telefonata, l'uomo si è presentato a casa della donna, dalla quale si è fatto consegnare i soldi, e poi è fuggito. Solo a questo punto la signora si è resa conto di essere stata truffata e ha richiesto immediatamente l'intervento dei carabinieri, che sono riusciti ad identificare il trentenne napoletano. Attualmente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, finalizzati sia a risalire all'identità del secondo giovane che al momento della consegna era rimasto in macchina, sia a stabilire eventuali ulteriori simili colpi messi a segno dai mail viventi.